Siamo degli eroi, nonostante la neve che non ci ha fermati, qualcuno aveva proposto di rimandarlo perché sarebbe stato impraticabile, in realtà così impraticabile non è Bologna, ma comunque le difficoltà le abbiamo superate. Abbiamo sentito il responsabile dell'evento, il dottor Burici, il quale ha detto storicamente io arriverò, per cui siamo andati avanti. L'argomento è di grande interesse, parleremo di mal di schiena, è una patologia fra le più diffuse, è più diffusa dopo il raffreddore, quindi si dice che è un problema di grande attualità e di grande interesse. Io ho provato a mettere insieme diverse specialità, in particolare la neurochirurgia, e mi sono avvalso della preziosa collaborazione del dottor Burici, un grande esperto di neurochirurgia, insieme al suo gruppo, con il professor Conti e Ilaria Barni. Devo dire che è un piacere averlo qui perché abbiamo anche grandi difficoltà, perché è sempre in giro per il mondo, ma soprattutto è un piacere stargli accanto in sala operatoria perché è un artista, nel senso che gli ortopedici sono coinvolti in questa patologia, ma noi siamo più manovali e tutta volta ingegneri, ma i neurochirurghi sono veramente degli artisti, sono degli architetti. Abbiamo coinvolto anche l'ortopedico, il dottor Roberto Urso, proprio perché l'ortopedia è parte integrante del mal di schiena. A Rizzoli c'è, oltre all'ortopedia generale, all'ortopedia pediatrica e alla traumatologia, anche un reparto di chirurgia vertebrale. D'Agui, poi Scaglietti, Savini, Parisini, Boriani, ci hanno insegnato tanto come ortopedici anche a intervenire sulla colonna. Questa collaborazione dovrebbe farci crescere. E io spero tanto che si esca poi, non soltanto per il piacere di stare insieme, ma anche con qualche curiosità in più e qualche certezza in più. Ringrazio il dottor Urso, dicevo che lavora al maggiore, ma che ci dà una mano anche qui come ortopedico, anche per questo trattamento conservativo sull'ozonoterapia. Ringrazio gli altri relatori che sono presenti, la dottoressa Violini, anche lei è un ortopedico, e il dottor Zocchi invece pur ortopedico, lui è il rappresentante, il presidente della Società Italiana dei Medici di Medicina Generale. Quindi il trattamento farmacologico, il trattamento conservativo, ozonoterapia, il trattamento chirurgico, il dottor Burici Conti-Barni. Sulle cause e con cause ne parlerà ovviamente la dottoressa Violini, che ringrazio di essere venuta, e continuerà poi nella seconda sessione, anche con gli aspetti medico-legali in ambito INAIL e in polizza privata, per cui il dottor Angelino, che è costantemente presente con noi, rappresenta l'INAIL, che spesso è chiamata in causa nel determinismo di questa patologia, sulle mal di schiena, ernie e quant'altro, hanno ovviamente anche spesso una causa o con causa lavorativa. Come verrà valutata, insieme a Giunarelli, vedremo un attimo se appunto in polizza privata si riesce poi ad avere anche qualche risultato. Avremo la sessione pratica nel pomeriggio, invece con le prove tecniche e alcune infiltrazioni pratiche di ozonoterapia. Ci aiuterà in questo ancora anche il dottor Burici, insieme alla dottoressa Violini e al dottor Urso. Ringrazio la nostra coordinatrice, la nostra responsabile direttrice, la dottoressa Caragiuli, che ha coordinato tutto questo immenso lavoro, e tutti quelli che sono dietro le quinte, che hanno lavorato e collaborato tutto lo staff di Medinforma e anche i nostri sponsor, Cinemed, che ci hanno permesso di avere poi una grande partecipazione di medici di base. In particolare ne ringrazio uno, Andrea Baccolini, che è straordinario insieme a Caled, ma Andrea Baccolini ci ha permesso di avere davvero una presenza capillare con i colleghi sul territorio e quindi ci ha permesso di avere la presenza di tanti colleghi medici di base in questa occasione. È un evento importante che ha avuto 9.9 crediti formativi e per questo ringraziamo appunto la nostra provider, Alessandra Caragiuli, che ci ha permesso di avere questo risultato. Ci saluterà anche lei e io vi auguro buon lavoro e grazie per essere venuti. Grazie a tutti.